Vittoria veramente è un'attrice, una grande attrice. Papà fa finta di sbattere e lei si fa male per finta e piange. Papà fa finta di sbattere e lei si fa male per finta di sbattere e lei si fa male per finta di sbattere. Vittoria è un'attrice comica, fa finta anche di piangere perché Fedez gli ha fatto uno scherzetto.